Dottor Ingrami, quali sono le principali novità a livello dello sviluppo di prodotto? Da quest'anno abbiamo lanciato qui a PT Uomo questa nuova linea di reporter che è Tecno Taylor che interpreta in modo dinamico e innovativo un nuovo stile per l'uomo moderno. Ci sono nuovi brevetti quindi all'orizzonte? Beh sicuramente oggi l'innovazione è il tema fondamentale, la ricerca, la tecnologia che si coniuga con un abbigliamento che nelle caratteristiche della modernità deve sapere esprimere anche una continuità. I nostri progetti sono sicuramente molto all'avanguardia tra i quali fra tutti i reporter Italy che è un nuovo modo di concepire gli acquisti tramite l'e-commerce. Quali sono ad oggi i mercati più ricettivi rispetto al vostro prodotto? Sicuramente noi siamo molto presenti nei mercati europei però abbiamo sviluppato negli anni anche i mercati dell'est asiatico, degli Stati Uniti e conseguentemente oggi i nostri prodotti sono collocati un po' in tutto il mondo anche se la caratteristica fondamentale è quella di voler dare ancora una nuova espansione soprattutto attraverso le vendite e-commerce che noi crediamo rappresentino la caduta finale di tutte le barriere commerciali e possano dare a tutte le aziende che hanno qualcosa di esprimere la possibilità di arrivare ai mercati di tutto il mondo.